Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Con orgoglio posso dire che da un lato abbiamo mantenuto l'impegno che ci eravamo assunti di chiudere la giunta entro Pasqua e comunque entro questa settimana e dall'altro sono molto orgoglioso di presentarvi una giunta che è composta da persone che apprezzo, che sicuramente rappresentano quelli che erano i miei impegni che ho sempre declinato e cioè persone esperte, capaci, con grandi proprie capacità ma soprattutto tutte con un'esperienza amministrativa molto accentuata. Noi abbiamo due ex Presidenti di provincia, abbiamo un attuale Vice Presidente di provincia, abbiamo sindaci, abbiamo amministratori locali e anche un ex Presidente della bicamerale sulle questioni regionali, quindi tutte persone di grande esperienza, di grande capacità che hanno dimostrato nella attività che hanno svolto fino ad oggi, quindi sono veramente contento ed orgoglioso di passare a presentarli. Allora iniziamo, il primo Assessore e Vice Presidente sarà, le deleghe che riceverà sono ricerche, innovazioni, università, export ed internazionalizzazione, non quel come ha detto Vice Presidente Fabrizio Sara. Poi, delegato all'autonomia e alla cultura, il Professore Stefano Bruno Galli. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rossi. Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo. Bilancio, finanza e semplificazione, Davide Caparini. Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che oggi non può essere presente perché è ancora impegnata a Parlamento. Istruzione, formazione e lavoro, Melania Rizzoli. Politiche per la famiglia e in genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani. Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini. Sicurezza, Riccardo Decorato. Sport e giovani, Martina Cambiaghi. Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. Turismo e marketing territoriale, Lara Magoni. Anche lei è un'intrazione che è ancora impegnata. quell'attività, Giulio Gallera. Poche donne, ma sono assenti la maggior parte, arriveranno come sempre le donne, sono i fondi di l'attività. Sottosegretari, Rigenerazione e Sviluppo a Respo Fabio Titonante. Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba. Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Cristian Rizzi. Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi. Ecco, io credo che sia una squadra come dicevo di cui sono particolarmente orgogliosa, tutta gente esperta, credo tutta gente che contribuirà in maniera sostanziale a rispettare quelli che sono stati gli impegni, i programmi che abbiamo presentato in campagna elettorale e che ribadiamo di portare avanti con la massima determinazione. Grazie.